Finalmente sono imminenti le elezioni per rinnovo degli organi sociali della Fondazione Nasarco, un fronte particolarmente attenzionato, presidiato dall'Associazione e da tutta la categoria dei promotori finanziari che l'Associazione di fatto in questo contesto rappresenta. Ad aprile del 2016 verranno rinnovati gli organi sociali della Fondazione e oggi ricorrono i presupposti perché i promotori finanziari abbiano una loro rappresentanza dentro la Fondazione, cosa che fino ad oggi non è mai accaduto. Ovviamente ci sono da verificare alcuni aspetti sia di ordine politico sia di ordine tecnico affinché questi presupposti siano effettivi, reali e vantaggiosi per l'intera categoria. Anas sta presidiando con grande attenzione questi passaggi che ci porteranno alle elezioni del 2016 e lo farà attraverso anche tutte quelle iniziative di politica associativa che si renderanno necessarie per avere finalmente una rappresentanza all'interno dell'ente. Grazie. Grazie.